Considerando il punto di partenza di questo lavoro possiamo dire che stiamo facendo un miracolo. Oggi si inaugurano a serie parti ristrutturati completamente, abbiamo al Monaldi uno dei punti di eccellenza della sanità campana e nazionale. A volte la cronaca non registra cose straordinarie, qui abbiamo un'eccellenza nazionale per quanto riguarda la chirurgia polmonare mini-invasiva, abbiamo un livello di tecnologia straordinario, abbiamo ripreso i trapianti pediatrici. Voglio ricordare che solo 3-4 anni fa questa attività era stata sospesa dal Ministero perché si facevano un trapianto, due trapianti, abbiamo cambiato tutto, riorganizzato tutto. Oggi il Monaldi è all'altezza della sua tradizione. Vi ricordo ancora che non più di due anni fa nell'ospedale dei Colli il CTO era stato chiuso, cioè il pronto soccorso del CTO era stato chiuso, incredibile.